Musica Venerdì 10 luglio, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Cresce lo scontro politico sulla sanità e sul prestito di 257 milioni di euro deciso dalla giunta regionale. Il Movimento 5 Stelle prende le distanze da Paolo Frattura, frizioni anche nella maggioranza di centro-sinistra, ma la casta non rinuncia ai suoi privilegi. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Cittadini tartassati, sanità allo sbando, aumenta il disagio negli ospedali pubblici dovuto alla sempre più marcata carenza di personale che si accentuerà con le ferie estive e con il mancato rinnovo dei contratti ai precari. Intanto cresce anche il fronte del no al prestito di 257 milioni di euro deciso dalla giunta regionale con la delibera numero 348 del 30 giugno scorso. In tutti questi anni il Movimento 5 Stelle ha contrastato tutte le politiche del governo Frattura in merito della sanità. L'unico aspetto per il quale condividevamo la sua azione era il rifiuto dell'approvazione di questo mutuo. Dopo due anni il tavolo tecnico ha insistito e insistito tant'è che Frattura ha ceduto e quindi noi ci dobbiamo rimangiare questa nostra apertura rispetto a questo tema. E il problema che si pone è gravissimo perché il mutuo graverà per 30 anni sui cittadini molisani. Viene acceso in una fase storica particolare nella quale Frattura evidentemente vuole evitare il commissariamento che politicamente è sicuramente dannoso ma non si capisce l'accensione di questo mutuo che cosa apre di positivo per i cittadini. È vero anche però che questo debito enorme di 260 milioni di euro si accumula ormai da otto anni almeno perché è da otto anni che siamo nel piano di rientro e il governo Iorio ha una fortissima responsabilità su questo e oltre i 260 milioni ci sono altri 160 milioni di euro che lo Stato ha trasferito alla regione per la sanità molisana e non sono stati spesi negli anni del governo Iorio per la sanità. Non si capisce neanche un'altra circostanza. Come verranno restituite le date annuali di mutuo? Se il Presidente confermerà quelle che sono state le sue prime dichiarazioni che non ci saranno aumenti di tasse necessariamente dovranno esserci riduzioni di servizi perché da qualche parte dovranno essere recuperati questi soldi a meno che non si possano rinegoziare successivamente se si riescono a prendere le primialità. Questa potrebbe essere una soluzione ma noi siamo completamente all'oscuro come Consiglio regionale perché la scelta l'ha fatta direttamente l'Aggiunta senza il minimo coinvolgimento né della maggioranza né tanto meno delle opposizioni. Intanto i precari della sanità dovranno andare a casa alla scadenza entro a fine anno circa 500 persone e negli ospedali si ha difficoltà a garantire il servizio. Ci sono grossissime difficoltà sia per quanto riguarda il rinnovo dei precari questo mutuo permetterà di sbloccare il turnover che permetterà quindi di avere i primari sostituendo i facenti funzioni nei reparti della nostra sanità soprattutto la riorganizzazione ospedaliera quando prenderà piede queste sono domande alle quali bisogna rispondere. A fronte delle tante difficoltà e del mutuo da restituire nei prossimi giorni la casta, eccezione fatta per i 5 Stelle e pochi altri festeggerà il secondo anniversario della legge sulle laute indennità che travalicavano illegittimamente i limiti imposti dal decreto Monti impunemente approvata dal Consiglio regionale la notte del 25 luglio 2013 quella legge che divenne la barzelletta d'Italia ed Europa rappresenta ancora oggi l'ennesima decisione vergognosa di una classe politica indegna e arrogante che tutela solo i privilegi e gli interessi di se stessa. Dal 13 al 17 luglio saranno a Campobasso i rappresentanti di alcune organizzazioni internazionali di Polonia e Portogallo per presentare il progetto Erasmus sulla gestione del bilancio familiare iniziato l'anno scorso sui problemi finanziari che coinvolgono i paesi europei e le difficoltà che creano le famiglie e i cittadini. Sono previsti alcuni incontri, in particolare il 13 luglio a Palazzo Vitale nel pomeriggio. E questa sera nella suggestiva cornice del Teatro di Altilia nella zona archeologica di Sepino appuntamento con l'Associazione Overture e il suo nuovo spettacolo, tutto inedito, dal titolo Il Vaion di tutti, da Longarone a San Giuliano, riflessi di speranza. Scritta e interpretata da Andrea Ortis, la rappresentazione ha l'obiettivo di attualizzare la tragedia del Vaion passando per quella del terremoto di San Giuliano di Puglia, vicino ai Molisani, in una prospettiva di speranza e rinascita, in concomitanza con lo spettacolo Il Vaion di tutti che ha inizio alle 21.00, dalle 19.00, l'Associazione Memo Cantieri Culturali propone una visita guidata nel sito archeologico e anche un aperitivo l'appuntamento dunque questa sera. E domani il Blue Note di Campobasso festeggia il suo tredicesimo compleanno serata particolare per l'occasione. Il servizio di Gianni Bruno. Sabato 11 luglio, lo storico locale della Movida Campobassana, il Blue Note spegnerà la tredicesima candelina sulla torta del divertimento notturno. Tutti invitati ufficialmente alla festa del Blue Note che sarà lieto di celebrare insieme ai suoi graditi invitati il proprio compleanno. Locale longevo e di successo che ha visto succedersi tante generazioni di giovani ed entusiasti frequentatori. Le novità proposte dal Blue Note sono state tante di anno in anno. Tra le ultime in ordine di tempo la pizzeria Stuzzicheria aperta al sabato sera da vivere come piacevole preserata e la domenica ad ora di pranzo da provare come momento gastronomico affiancato ad una giornata in piscina. L'estate 2015 del Blue Note è già iniziata in maniera esilarante per i suoi tanti appassionati. Gli stessi ospiti arrivati finora nel capoluogo sono stati di un certo calibro e hanno trovato il consenso del pubblico della notte campobassana. Da Amedeo Andreozzi a Fabio Colloricchio, entrambi personaggi del pomeriggio di Canale 5 nella trasmissione Uomini e Donne, senza tralasciare l'apprezzata presenza giugno della splendida Cristina Buccino direttamente dall'Isola dei Famosi. Insomma prosegue la caldissima estate del locale campobassano che conferma anche per sabato prossimo l'ingresso gratuito entro le ore 23 e 30. Tra le novità introdotte nella nuova stagione anche l'area latina nella fantastica cornice del bordo piscina per tutti gli appassionati della musica caraibica e per la grande notte del tredicesimo compleanno anche l'area hip hop genere molto in voca fra i giovani campobassani. Insomma il locale sta preparando una grande festa di compleanno per tutti i suoi affezionati. Tanti auguri al Blue Note. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Marco Presutti in regia vediamo come titola il giornaledelmolise.it Zuccherificio, le RSU durissime contro politica ed SRL. Solo proclami, folclore e bugie dicono. Una mini campagna da fare solo a ottobre, non in fabbrica ma con un mini zuccherificio e solo con una decina di addetti aspettando la settima asta in programma il prossimo 4 agosto. Il futuro sempre più incerto dell'impianto non convince i rappresentanti dei lavoratori, tutti ancora in cassa integrazione. In una nota le RSU di Cigelle e Cislewil di settore si scagliano contro la regione e la politica nel suo insieme chiamando in causa anche la SRL. Vediamo le altre notizie del giornaledelmolise.it. L'annunciazione di Montorio nei Frentani all'Expo di Milano, così l'arte del Molise entra nei circuiti internazionali. Incidente in A14, una donna di 40 anni si schianta contro il guardrail. Motore in avaria, la guardia costiera soccorre 4 diportisti. Patricello scrive a Nagni, la politica molisana autoreferenziale e a critica. Trasporto pubblico integrato, unico gestore collegherà Campobasso a nove comuni dell'Interland. Bagnoli del Trigno, Camele, dice il paese non rischia l'isolamento. Il sindaco, Angelo Camele, pronti a intervenire sulle frane. Eletto il nuovo segretario PD del Basso Molise, Pasquale Marcantonio. Santa Croce, rogo in allevamento, Cavalli e Vitelli muoiono nell'incendio. I sernini truffati sul web, due persone denunciate dalla polizia postale. Poi accoglie al Volturno e i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana denunciato un 44enne. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni, ma anche altre notizie dalla regione, dall'Italia e dal mondo. Vediamo come titola primo piano. Molise, biomasse ai piedi del Matese. La partita nelle mani del Tarci. Attesa per il risponso dei giudici che arriverà non prima di due mesi. Le imprese Civitas e Di Zio chiedono un risarcimento danni per oltre 30 milioni. Al vaglio anche il ricorso presentato da comuni, associazioni e cittadini che si oppongono alle centrali. Palazzo San Giorgio, Campobasso, dunque comune. La maggioranza perde pezzi, quattro dissidenti verso l'appoggio esterno. A Isernia invece in otto mollano Brasiello e disertano l'aula. Salta la seduta del Consiglio Comunale. Da Campobasso soldi in cambio di permessi di soggiorno. Cinque anni di carcere al Chebabaro. Da Campobasso bimba esclusa dal campus. L'amministrazione si attiva. Situazione delicata ma battista. Assicura che la questione avrà un lieto fine tra qualche giorno. La conferenza delle regioni. Frattura al Quirinale dopo la convalescenza. Aspettiamo il presidente Mattarella in Molise. E poi ospedali. Il Tribunale riapre i giochi a Venafro e Larino. Dunque c'è questa notizia. Il Tard ha ragione al Comitato Santissimo Rosario. Lo fa pubblicando le sentenze attese da un paio di mesi. E dunque di fatto il Tribunale boccia il piano sanitario del governatore. Frattura e quindi congela l'ospedale Venafrano a luglio del 2011. Cioè al momento della delibera 124.14. Le altre notizie. Isernia la Dea bendata si ferma in città. Vinti 210.000 euro alle slot machine. Il colpo di fortuna all'Europa jackpot di Viale dei Pentri. Abruzzo, vasto marina. La proposta dei commercianti. Isola pedonale a luglio solo nel fine settimana. Per quanto riguarda lo sport. Mercato. Valentini impreziosisce il centrocampo dei lupi. Tra i pali il baby Capuano. Ha già debuttato in serie B. Sempre serie D. Termoli scritto con riserva. Isernia cifra non ancora raggiunta. Agnonese, Urbano resta al Bari. Corsa a due tra Agovino e Palazzo. Il quotidiano del Molise comune di Isernia. Il centrosinistra naufraga. Disertato il Consiglio. La maggioranza assente. Sindaco compreso. Si scatena la polemica. La nomina dei due nuovi assessori amplifica il malcontento nella compagine di governo. La legge approvata in Senato. Agricoltura sociale. Mano tesa ai soggetti svantaggiati. Trasporto pubblico. I paesi si avvicinano a Campobasso. E ancora a Campobasso. Non al forno crematorio a San Giovanni. Piace l'idea. Santo Stefano. Il comune valuta. Santo Stefano. E sospende dunque il bando. Benafro. Il Tar blocca il riordino a Santissimo Rosario. Per ora niente tagli. La decisione dei giudici è arrivata in serata. Isole Tremiti. Barca in avaria salvata. La famiglia di turisti. E poi Isernia droga gli studenti. Arrestato un altro spacciatore. Campobasso. Immigrazione clandestina. Indiano condannato a 5 anni. La decisione dei giudici della Corte d'Assise. Il PM aveva chiesto 15 anni. Isernia sbanca il jackpot. Porta a casa 210 mila euro. Ieri l'incontro al Quirinale. Frattura invita il presidente Mattarella. In Molise. Campo chiaro. Centrale a biomasse. Scontro a colpi di ricorsi. Sport. Campobasso tra mercato e adempimenti burocratici. Il mediano Valentini dice sì ai lupi. Ecco il portiere Capuano. Classe 1997. E poi perfezionata la domanda di ammissione al prossimo campionato. Inviato l'intero carteggio per l'iscrizione in Serie D. Sempre per la Serie D. Dunque iscrizione. Ultima chiamata per Termoli e Isernia. Entrambe invieranno domande da perfezionare. Vediamo adesso la Gazzetta del Molise. Che titola così? Molise chiude tutto. Edilizia, trasporti, zuccherificio, gam, ospedali, aziende. L'Oscar del giorno. La Gazzetta lo assegna a Diletta Molisana. E il tapiro del giorno ad Antonio Battista, sindaco di Campobasso. Vediamo futuro Molise. Regioni al Quirinale Frattura. Grazie al presidente Mattarella per averci ricevuti. Il Molise lo aspetta. Agricoltura sociale, ruta. Avanzamento verso economia civile e sociale, dice il senatore. L'istruzione universitaria nazionale non può concentrarsi in un nucleo ristretto di mega Atenei collocati nelle aree metropolitane. Poi nel 2014 sono stati emessi 72.278 provvedimenti di sfratto. Il Molise è tra le regioni più colpite. Isernia Brasiello non riesce a compattare la maggioranza che diserta l'aula. Assisi è rinviata a domani. E ci sono poi le altre notizie di futuro Molise. Vediamo adesso i quotidiani nazionali. Partiamo con la Repubblica sì alla riforma, ma la scuola spacca il PD. Proteste in aula. 29 dem si sfilano. Tolti i vitalizi a Berlusconi e altri 17. Grecia piano da 12 miliardi. Le borse credono all'accordo. Tsipras presenta il programma. Atene è pronta a vendere Pireo e aeroporti. Il dono al Papa falce, martello e crocifisso. Bolivia in regalo provocazione di Morales. Qui c'è la foto con il presidente boliviano che offre al Papa falce e martello con sopra un crocifisso. La morte del bimbo nel metro Roma precipita dall'ascensore bloccato. Errore di un addetto. Il tempo, la tomba di Marco, anche qui in evidenza questa notizia di cronaca tragedia nella metro Romana dai mille problemi. Bimbo di quattro anni precipita dall'ascensore e muore. Siamo arrivati al capolinea, è il titolo dell'articolo di Gianmarco Chiocci. La stampa di Torino, la riforma della scuola è legge. Subito assunti 45 mila precari, altri 55 mila saranno di ruolo nel 2016. I sindacati contestano i poteri ai presidi. Il testo approvato alla Camera con il voto dei verdignani, mentre il PD si spacca ancora. Manovra da 12 miliardi, riforma dell'IVA e tassa sulla casa. Ecco la proposta di Tsipras all'Unione Europea. Il grido del Papa, questa economia è ingiusta. Il presidente della Bolivia gli regala un crocifisso montato sul simbolo della falce e del martello. Dunque si parla della visita del Papa in Sud America. Vediamo adesso come titola Libero. Crocifisso un'altra volta Cristo su falce e martello. Così scrive Libero, il boliviano Morales dona al Papa una borsa di foglie di coca e un Gesù inchiodato sul simbolo del comunismo, nel cui nome sono stati sterminati i milioni di cristiani. E Bergoglio sorride. Papa Francesco, qui la foto, che sorride, mentre Evo Morales gli consegna il Cristo inchiodato sul simbolo comunista. La metro di Marino uccide un bimbo, l'ennesimo guasto agli ascensori diventa tragedia. Questo è l'altro titolo di Libero. I politici sacrificano 18 vitalizi per potersi tenere tutti gli altri. Vediamo adesso il mattino di Napoli. Sì, alla buona scuola, PD diviso. La riforma e legge tra le proteste invalsi il Sud al Retra in italiano e in matematica. La Camera dà il via libera. Votano con la maggioranza 4 azzurri di Verdini, 9 mila precari assunti in Campania. E poi la stretta di mano che chiude una guerra. Il debutto prima riunione del Consiglio regionale campano. De Luca dialogo con l'opposizione. Per quanto riguarda invece il calcio, Battistuta, Higuain è insostituibile. Il colloquio, l'ex cannoniere, anche i grandi sbagliano i rigori. Riferimento al rigore sbagliato in Coppa America da Higuain. Vediamo avvenire il quotidiano dei Vescovi. Prima i popoli, il virgolettato nel titolo. Il Papa in Bolivia, l'economia sia al servizio di tutti, no alle nuove forme di colonialismo. Grande folla di fedeli per la prima messa nel paese. Francesco, basta con lo scarto, la pedagogia di Dio, il coraggio della compassione. E poi riforma della scuola, autonomia è più prof, così cambia la scuola. Proteste alla Camera, ma la legge è appena approvata. Subito 36 mila assunti. Vediamo il secolo d'Italia. Metro di Roma muore un bimbo di 5 anni. L'atroce profezia, qui ci scappa il morto. Ultima cattiveria, scrive ancora il secolo d'Italia. Tolto il vitalizio a Berlusconi, forza Italia insorge. Scuola bagare in aula e Meloni annuncia pronti al referendum. Rubato il software degli 007, ora chiunque può spiare i nostri computer. E tutto termina qui la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolisi alle 14 in diretta con il TG. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per averci seguito.